Musica Nuovo appuntamento con l'ospedale solitale Villa Betania, progetto che promuove la prevenzione sulla salute delle donne in sinergia con il comune di Tore del Greco. Questa mattina le telecamere di TV City hanno raggiunto i locali della parrocchia di Santa Maria del Principio, che hanno ospitato quest'oggi l'iniziativa dopo il successo delle scorse settimane. Il nostro ospedale Betania oggi ha messo a disposizione i nostri mezzi, i nostri colleghi, per completare l'opera che è stata iniziata a marzo per la prevenzione della donna. E oggi abbiamo eseguito PAP test, visita ginecologica, per l'iniziativa del nostro ospedale solidale, iniziata appunto a marzo, che si completerà a maggio con il controllo ecografico, in modo da assicurare alla donna uno screening completo e siamo lieti di questo. Ricordiamo anche le modalità di accesso a questa iniziativa, a chiunque fosse interessato. Sì, sono completamente gratuite. Basta semplicemente contattare i responsabili della nostra associazione ed è tutto assolutamente gratuito, sia la visita, sia il PAP test, sia l'ecografia. Qual è stata la risposta delle donne? Assolutamente positiva, sia per quanto riguarda la risposta sul territorio, con questi ambulatori esterni, in cui noi siamo venuti e siamo stati accolti in diversi spazi, anche con il rapporto con diverse associazioni sul territorio, in questo caso di Torre del Greco, per essere un supporto importante, e soprattutto per informare che il nostro ospedale ha già da diversi anni attivo una serie di ambulatori solidali che sono di supporto alla donna e non solo, perché cerchiamo che l'ospedale intero sia comunque solidale e aperto in tutte le sue sfumature e la parte più fragili della società. Dopo giusto un mese riprendiamo questa bella iniziativa della prevenzione, dove anche oggi c'è stata una bella risposta e questo ci fa capire che la prevenzione è importante e che dobbiamo sempre aprire le porte, sia del cuore, anche le porte delle strutture, affinché tutti possano aderire a questa bella iniziativa. Un appello che vogliamo lanciare alle donne di Torre del Greco e dei comuni limitrofi a partecipare a queste iniziative? A prendere visione delle date di queste iniziative per partecipare e per essere sempre pronte a vivere questa prevenzione.